Il mio personaggio sicuramente richiede di una bella quantità di energia e di tanta cintilla come persona, perché siamo comunque in un contesto, diciamo, con un Conte Robinson molto giovane e ci vuole che si veda questo, sicuramente si possa vedere questo sulla scena, sul palcoscenico. Per quelli che facciamo un preparatorio più serio, più drammatico, più pesante ci sta fare questi ruoli, perché aiutano tanto a togliere non solo pesantezza psicologica, se no anche un po' di pesantezza vocale, perché i ruoli drammatici sempre richiedono tanta energia, poi tanto fisicamente come artista, anche come cantante. Grazie. 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 Grazie.